Allora, siamo alla Fontana Greca, qui a Gallipoli. Davanti a me una bella tazza di cioccolata calda, con la cannella e l'arancia. Poi ci sono dei pasticcini, molto buoni, e del tè. Qui c'è Emanuela. Non voglio nemmeno guardare. E qui c'è la mia cioccolata. Potete osservare la cioccolata da varie angolazioni. Questa è una. Questa è l'altra. E questa è l'altra. Meravigliosa. Adesso, questa è la più bella angolazione. Pavolosa. Questo è il bar, molto interessante. Poca gente. Si sta pure bene qua, eh. Si sta bene. Gente, selezionate. Selezionate. E questa è la cioccolata. Adesso vi lascio perché devo andare a mangiarmela. Papparmela. Non si beve la cioccolata. La cioccolata si mangia. Si pappa. Eh, che cos'è l'acqua? C'è una marea di roba là dentro. Vado.